E' inferente. Ci siamo, ok. Allora, per i pochi rimasti, intanto vi ringraziamo per essere rimasti a questo punto. Spero che il cibo che ci è stato offerto così buono sia così buono, ma non abbiate mangiato così tanto. Ci siamo ad essere completamente nella fase da bisolino post pranzo. In realtà adesso io e il dottor Flaminio, per me Simone, vi parleremo degli apoidei selvatici. Quindi in realtà oggi noi siamo un po' gli outsider di questa giornata, nel senso che parleremo comunque di api, ma non quelle di cui si è parlato fino adesso. Quindi diciamo banalmente quelle che non fanno il miele, quelle che non vengono allevate, quelle che solitamente non sono soggette dell'attenzione degli esseri umani. Ovviamente, perché ne parliamo? Perché comunque sono le grandi protagoniste dell'impolinazione. Quindi quando si sente parlare che le api sono in pericolo, che le api sono a rischio estinzione, eccetera, in realtà si sta parlando soprattutto di loro, quelle che comunque non hanno un essere umano alle spalle che le controlla. Quindi comunque non hanno un occhio che quotidianamente è lì e che vede le problematiche che affrontano. In realtà quell'occhio c'è perché qualcuno nel mondo comunque le studia. L'importanza dell'impolinazione in qualche modo la sapete, nel caso ve la ricordiamo. Quindi l'impolinazione è essenziale per tutto ciò che è il cibo che noi mangiamo, non solo frutta e verdura, ma anche tutto quello che è legato tipo al mondo dei latticini, se pensate all'alimentazione degli animali. Piuttosto che alla frutta secca, ai succhi di frutta, o come giustamente Claudio ogni tanto mi ricorda, anche i vestiti. Il cotone fa parte delle piante che vengono incrolinate da animali, quindi da insetti. Questo è un esempio di quello che sarebbe una tavola alla colazione senza le api. e qui sotto invece è riportato il valore economico delle api, quindi il servizio ecosistente. Come vi ho detto non parleremo di lei o di loro, ma di tutte le altre. Chi sono e quante sono? Quindi parlando un attimo di numeri, in Italia ne abbiamo più di mille specie. Nel mondo e in Europa vedete che ovviamente in proporzione aumentano. Quindi non stiamo parlando di solibombi o solo le osmie, che sono quelle che oggi vengono più nominate quando si parla di altre api, ma stiamo parlando veramente di un mondo, di biodiversità soprattutto. Guardando un po' a chi sono, quando diciamo apoi dei, tassonomicamente in realtà è una superfamiglia, come si potrebbe dire vescoidei, quindi sono come un grande raccoglitore, ok? c'è una grande cartella dentro cui sono presenti dei sottogruppi e quindi voi dovete immaginarvi che queste sono delle famiglie e l'ape da miele per esempio è inserita dentro, non so se è un puntatore, no va bene? dentro questa famiglia qua. Però in realtà quando parliamo di api selvatiche o apoidei, in realtà parliamo di tante famiglie raccolte nel raccoglitore apoidei, superfamiglia. come vedete forme, dimensioni, colori sono tanti, sono veramente diversi, per quello si parla di biodiversità in questo caso, perché parliamo di una varietà estrema, per fare un po' di numeri anche in questo caso. Andiamo da api grandi 3-4 mm ad api grandi 3-4 cm in Italia. Andiamo da api completamente nere, api con gli occhi verdi, api rosse, altri colori mi vengono in mente di fantazioso, però veramente c'è un po' di tutto. E per farvi capire un po' che tipo di biodiversità parliamo, è come se io vi facessi adesso pensare alla quantità di fiori che esistono nel mondo. Ovviamente ognuno di voi aveva in mente colori, forme e dimensioni diverse. Ecco, in parallelo dovete immaginare che c'è una corrispondenza anche nel mondo delle api. Vi faccio giusto un po' l'introduzione, o meglio, l'introduzione è un po' lunghina, nel senso che volevamo farvi capire di chi stiamo parlando, perché solitamente quando ci troviamo a parlare di apoidei siamo di fronte a persone che non hanno nemmeno in mente di cosa stiamo parlando. Quindi era inutile che io adesso vi parlassi direttamente dei casi studio che volevamo farvi vedere senza avervi presentato il soggetto di questi casi studio. Dovete immaginarvi quindi che nel mondo delle api abbiamo delle api che sono specializzate su un unico fiore, un'unica pianta. In questo caso si chiamano monolettici e sono quelli un pochino più a rischio se parliamo di estinzione, nel senso che essendo specializzati se scompare la pianta su cui vanno a bottinare inevitabilmente sono quelli che scomparino direttamente insieme alla pianta. E viceversa, dovete immaginarvi che in molti casi anche la pianta ha creato una specializzazione nel confronto di uno o pochi insetti per cui se vanno a scomparire questi impollinatori anche lei va in deficit da impollinazione. C'è poi una specie di scaletta, quindi una graduale, per cui passiamo agli oligolettici che quindi sono un po' meno specializzati e quindi vanno a bottinare su più specie ma dello stesso genere di piante. Un esempio per farvi capire, abbiamo tutti in mente il trifoglio. Esiste il trifoglio giallo, il trifoglio bianco, il trifoglio rosa, il trifoglio rosso eccetera. Potrebbe essere quindi che esiste una specie che va a bottinare su tutti i trifogli. Arriviamo poi ai polilettici, quelli che invece sono di bocca buona, detta in parole semplici. L'ape da miele fa parte di questa categoria. Questo è il motivo per cui gli apicoltori possono permettersi di fare i mieli monoflorali. Per cui lei dove la metti va tranquilla, mangia quello che si trova davanti e siamo tutti a posto. Lei è per questo che vi dico che quando si parla di api a vista di estinzione non stiamo parlando di questo tipo di api perché sono quelle un pochino più generaliste che quindi di solito se la cavano più o meno in tutte le situazioni. Sempre parlando di diversità, voi avrete sicuramente in mente le dimensioni dell'ape da miele e della sua ligula. Esistono api che hanno una ligula molto più lunga e altre api che hanno una ligula molto più corta anche che in questo caso si parla di un adattamento ai fiori che sono presenti normalmente in natura. Stessa cosa per il trasporto del polline. Siamo abituati a pensare che il polline venga trasportato dalle api sulle cestelle o sulle corvicule e in realtà non è quello l'unico modo di trasportare il polline. Come vedete nella prima immagine effettivamente c'è un'ape che sta trasportando il polline sulle zampe ma come vedete è tutt'altra situazione rispetto alle palline sulle corvicule. Da questa parte invece abbiamo un tipo di ape, fa parte della famiglia dei megachilidi che trasporta il polline utilizzando le setole che hanno sotto la zone. Da qui i nomi che vedete sopra le foto. Stessa varietà nel modo di fare i nidi. Non tutte le api fanno il nido di cera o meglio, le uniche che fanno il nido di cera sono le api da miele. Dovete un po' immaginarvi che tutto quello che avete imparato fino adesso sulle api da miele in realtà nel mondo delle api è l'eccezione, più o meno sempre. Quindi normalmente fanno o il nido sottoterra, quindi quello che dico sempre soprattutto ai più piccolini non calpestate i nidi se li vedete, quindi se vedete delle montagnette tipo queste non fatelo nemmeno se sono formiche ma sappiate che non sono solitamente formiche è più probabile che siano api, soprattutto se ne vedete tanti quindi se sono gregari. Molte altre, e queste sono un pochino più famose, fanno il nido invece nelle cavità naturali che sono presenti quindi o il legno ma in realtà possono utilizzare anche chiocciole o altre situazioni. Comunque in questo caso viene definita una modalità etigea, quindi sopra il livello del suolo. Questo è il motivo per cui sono nate le casette per le api proprio perché sfruttano questa naturale modalità di nidificare nel legno. Non tutte sono sociali, o meglio, anche qui l'ape da miele è l'eccezione. Quindi l'ape da miele, come vedete qua, è messa negli eosociali che è il più alto grado di socialità ma nella normalità abbiamo api o eosociali primitivi, cioè i bombi, o presociali, gregari e solitari, cioè tutte le altre. Cioè nella maggior parte dei casi non abbiamo una famiglia a cui l'ape deve star dietro o sottostare. Normalmente siamo di fronte a animali solitari, quindi quello che voi avete in mente per qualsiasi tipo di animale quindi se vi viene in mente il classico superquark che avete visto da bambini è primavera, è il momento degli amori, dell'accoppiamento si incontrano maschi e femmina, avviene l'accoppiamento, la femmina pensa alla deposizione della propria prole e finisce lì. Quindi non c'è da pensare all'inverno, alle scorte, non c'è da udire un nido e tutta questa parte che noi siamo abituati a pensare quando pensiamo alle api da miele. Ne corrisponde il fatto che solitamente non sono aggressive, quindi di fronte alle altre api, agli apoidei, solitamente non hanno un carattere aggressivo, cioè manca l'idea di dover difendere un nido vero e proprio, una famiglia. Poi stiamo comunque parlando di animali acculeati, per cui comunque vi sconsiglio di andare a molestare un bombo o qualsiasi altro animale della superfamiglia degli apoidei. Parassitismo, questa secondo me è una cosa carina da comunicare, nel senso che proprio perché parliamo di diversità si è arrivati al punto in cui alcune specie di api hanno deciso di, forse non è la parola giusta, quindi per concludere brevemente, effettivamente l'insieme di questo tipo di aree nel contesto urbano può essere un modo per contrastare i problemi legati all'urbanizzazione. Qua vi riporto uno studio che effettivamente afferisce che il numero di individui presenti in città, in quanto alle ape, agli apoidei selvatici, è proporzionale al numero di siti a misura ape. Quindi quello che si va a verificare è che in realtà la città dovete immaginarla come un luogo pieno di barriere architettoniche che non fanno altro che creare dei vicoli ciechi per gli apoidei, quindi da una parte sicuramente la cementificazione riduce la presenza di risorse trofiche, dall'altra parte c'è proprio l'impedimento al volo per cui si creano delle isole genetiche fra le varie specie e quindi quello che si può fare è creare dei ponti, quindi dei ponti o dei corridoi ecologici, quindi con la presenza di verde, affinché si migliori questo tipo di situazione. E quindi quello che noi suggeriamo, oltre ai classici biotel, quindi ai nidi per le api, che non sono sufficienti di per sé, quello che bisogna fare è creare una progettazione delle città, una progettazione del verde urbano consapevole, quindi oggi abbiamo sentito parlare molto di apicoltura urbana, abbiamo visto anche la collaborazione con amministrazioni comunali ed effettivamente questa è l'unica via, l'unica soluzione per portare in città la biodiversità, almeno per quanto riguarda i micro habitat di cui stiamo parlando adesso. E qui vi riporto appunto balconi fioriti, viali fioriti, tetti fioriti, abbiamo visto api portate sui tetti, perché non portare anche fiori e piante sui tetti, quindi andiamo verso un futuro, come dicevamo oggi, la ragazza con le treccine, che comunque ci fa capire che se vogliamo vivere meglio noi, dobbiamo comunque avere attorno a noi un contesto più verde, più biodiverso, ecco effettivamente questi sono suggerimenti che fanno stare bene anche le api, tutte le api e tutte le altre api. A posto. Mi sembra che ci hanno mandato un bel messaggio di ecologia urbana e così quando vedremo anche delle aiole non sfalciate saremo più felici perché l'aiola non sfalciata permette a tutti gli insetti di vivere meglio. Se posso aggiungere, c'è una bella differenza tra l'incorto, il non gestito, il degrado e una gestione consapevole e comunque gentile. Io lo dico sempre anche quando parlo con gli assessori, con il politico che ha sempre bisogno di da una parte pensare al voto e da una parte pensare al costo, cioè gestire in maniera più consapevole e più ecologica ha anche un minor costo in alcuni casi rispetto ai cinque sfalci annuali, se tu ne proponi due, è comunque una situazione ideale, permetti alle piante di andare in fioritura a seme e quindi di portare avanti il loro essere, il loro esistere e allo stesso tempo è anche un risparmio economico. Non per forza questo è lontano dal concetto fine, scusate. Ci sono domande? No, sì, però parlavi di classificare il rischio di istinzione, l'apis medifera o l'ecolo male? Non è quello fatto, non ha nessun problema, a livello di istinzione, cioè un sacco di problemi di gestione da Barroa, Gentina, eccetera. Però, no, no, essendo allevato ovviamente non c'è una... Ah, sì, l'acqua sicuro c'è. In realtà esatto, in alcuni casi contribuisce a rarifare quelle che sono le altre app, proprio che toglie risorse e competere per risorse profiche spesso molto scarse in ambienti già risolvati. Adesso non l'abbiamo riportata anche per velocità della presentazione, ma nel contesto delle aree gestite dall'UVF metà degli individui campionati osservati praticamente erano api da miele. Quindi a quei numeri devi aggiungere altrettanto solo di api da miele. Quindi in un contesto come possono essere quelle osi, quindi biodiverse, nel senso di tanti siti di nidificazione e tante fioriture che coprono tutto l'anno, effettivamente stanno bene un po' tutte. Ma in contesti in cui hai già problemi di poche fioriture, se metti tante famiglie, tante arnie, effettivamente è una competizione proprio sia a livello di numero che a livello di spazio. Se potete in un contesto urbano, questo effettivamente si verifica, quindi anche qui riempiamo le città di api, va benissimo, però anche lì con un po' di raziocinio, perché ci sono poche fioriture in città. Se mettiamo api, arnie su tutti i balconi, perdiamo le altre. Cioè il rischio è quello. Ci sono diverse ricerche. Le gente, ci sono anche delle gente che non ti posso rincontrare. Lo so. Dov'è l'attività? Secondo me sì, perché non è, non so come dirti, non è assoluto. Cioè non è che è ovvio che entrino in competizione o non lo è. Dipende dal sito, dipende dalla situazione. Dipende, se vai per farti un'idea, arriviamo dal contesto urbano nazi, dove è la pianura agricola intensiva, estensiva, dove non ci sono siti di identificazione per le altre. Non hai fioriture che coprono tutto l'anno, ma hai un campo di girasole, vanno tutti lì. Se ci sono tre arnie e un po' di api selvatiche, se la cavano, ma se li metti 15, 20, 30 famiglie, tutte sul campo di girasole, le altre rimangono a bocca asciutta. Si fa un po' il contesto che fa la differenza. Sì, sì. Ma principalmente, come si va a te capire, quelle che parassitano sono le più a rischio di spiglie. È un po' una sorta di cascata, no? Le sono associate a una singola specie, perché quelle parassite e parassite, spesso una singola specie, o poche specie di un genere, se manca quella ospite, ovviamente, a cascata, come diceva lei, mancherà anche poi quella parassite. Infatti vengono spesso utilizzate come indicatrici dello Stato, non tanto di salute, ma anche della università, del luogo. Grazie. Grazie, grazie. Gli ultimi giorni mi sono occupato un po' del 5G, nel senso che mi sono arrivati a una serie di informazioni abbastanza terrificanti su questa nuova tecnologia. Da un lato vengono abbattuti gli alberi, dall'altro sembra che sia molto dannosa. Voi che le studiate, tutte queste cose che chiamiamo critiche per l'ambiente, avete già qualche opinione in merito nell'ambiente? Ovviamente su questo argomento non me ne sono mai occupata, quindi non saprei cosa dirti. Non so se ci sono già ricerche su questo argomento specifico, quindi non so se Simone sa qualcosa riguardo... Scusate, sono tumati? Sì, sono tumati? No, diceva, sulle bestiore o su... No, no, sulle arti, sulle arti. Scusate, non si sa... No, purtroppo non... Se ne ha su di noi, che siamo dei mappi utenti, immagino che anche su di loro viene in faccia, però poi vanno a sapere se sono un po' in set, quindi hanno altri sistemi... Scusate, magari c'era qualche progetto di ricerca da qualche parte. No, è ideal, c'è... Se c'è non qui, poi c'è voi. Bene, grazie ragazzi. Adesso Michele, Valerio e Luca Pardini di Arpa. Nel mondo dell'evoluzione diciamo che i comportamenti non sono mai decisionali, però si è arrivati al punto in cui alcune api non bottinano più direttamente, ma vanno a sfruttare le risorse accumulate da un'altra ape. Avete presente come fa il cingulo che va a deporre nel nido di un altro uccello e è poi un altro uccellino, un'altra madre che dovrà acudire il piccolo del cuculo. Più o meno è quello che succede nel mondo delle api cleptoparassite, per cui, se vedete questa prima ape qua nella foto, sembra quasi una vespa più che un'ape, perché ha perso molto delle caratteristiche che servono per la raccolta del polline, di tutte le varie sedole, e ha acquisito invece dei caratteri che le permettono di entrare velocemente dentro al nido, deporre nel nido di un'altra ape, di un'altra specie e poi dopo andarsene. Quindi spesso hanno anche dei caratteri un po' che sembrano quasi di aggressività, perché nel caso per esempio di Psythirus, qua entriamo un po' nei dettagli, praticamente all'interno del mondo dei bombi ci sono alcuni bombi che hanno intrapreso questa strada del parassidismo, per cui assomigliano in tutto e per tutto a un bombo, ma nella pratica entrano, fanno fuori la regina che è praticamente a capo di questa famiglia e prendono in capo la famiglia dell'altra e quindi in un qualche modo obbligano la prole, le operaie di questa famiglia ad acudire la sua futura prole. Quindi in questo caso cosa succede? Che si chiama parassidismo sociale, per cui la femmina assomiglia in tutto e per tutto all'altra femmina, quindi è come se fosse si deve mimetizzare il più possibile per entrare senza dare troppo nell'occhio, ok? Quindi entra, fa fuori l'altra regina e prende possesso di questa famiglia. Passo la parola a Simone che se no qua... Allora, come già anticipato da Elisa, tutte queste specie che abbiamo visto fino adesso e questa varietà è soggetta a una rarefazione e alcune specie sono addirittura a rischio estensione. Le cause sono quelle classiche, quelle che già tutti conoscerete come la frammentazione degli habitat, l'utilizzo di fitofarmaci, urbanizzazione o i cambiamenti climatici. Per quantificare questo declino è possibile vedere a livello europeo questo grafico che è stato creato da MCN in cui si può vedere come una piccola parte delle specie è a forte rischio estensione, in particolare quelle prime quattro fette. Ma il dato forse più interessante è quello remativo al fatto che il 60% circa delle specie non si hanno informazioni su quella che è la distribuzione o la refazione. Per lavorare a livello italiano si può utilizzare questa checklist che è stata creata da Comba che seppur a livello embrionale perché utilizza informazioni storiche da bibliografia o da collezioni private dà comunque un'idea per quantificare quella che è effettivamente la refazione delle specie. In particolare è interessante vedere come anche in Italia delle circa mille specie che abbiamo per 106 non abbiamo assolutamente dati sulla distribuzione e una grossa altra fetta è a rischio alto moderato basso di estinzione. Noi ci concentreremo sulle api che sono presenti in città e in particolare dove è possibile osservarle ovviamente nei giardini privati quelli ben curati pieni di fiori dove non vengono utilizzati ovviamente pesticidi all'interno dei parchi urbani nei cimiteri è molto interessante secondo me è anche un bel simbolismo quello legato al fatto che molte api sono presenti nella flora presenti nei cimiteri nelle rotonde sparti traffico che purtroppo vengono spesso spalciate molto frequentemente abbattendo quella della diversità fioristica e impedendo alle api di continuare o negli orti proprio a proposito degli orti io ho effettuato uno studio che è stato svolto in 5 aree ortive a Bologna in particolare in aree ortive date in concessione dal comune ai residenti e l'obiettivo era quello di studiare le comunità di api presenti in queste 5 aree ortive caratterizzate da diversi caratterimenti di urbanizzazione e ho cercato di evidenziare di capire se il tipo di gestione del suono potesse o meno aumentare la percentuale di specie che identificano nel terreno quelle oligolettiche o quelle reptoparassite che sono le 3 categorie come anticipato da Elisa più minacciate dal rischio e estizione l'area di studio è questa questa è Bologna ci possono vedere le 5 diverse ortive in particolare c'è il falo del paleotto che è quella più naturale per virgolette perché è situata nell'area di Colli di Polonia l'orto botanico che invece è situato in piena area urbana quindi all'interno dell'Uno di Polonia insieme all'orto di Saragozza è quello caratterizzato da una forte urbanizzazione mentre gli orti di Verbuosa e quelli di Batirame sono caratterizzati da una media urbanizzazione i campionamenti sono stati svolti in due anni da più o meno marzo fino a ottobre venivano svolti due volte al mese per ogni orto e venivano campionate tutte le specie vegetali in fiore e venivano catturate determinate le api che erano presenti su quelle specie i risultati barziali in questo caso mi concentrerò su quelle che sono le specie che nidificavano il terreno sono abbastanza positivi tra virgolette ovvero la maggior parte delle specie presenti nidificano il terreno con un bia mese le aree più promettenti tra virgolette sono quelle del paleotto che vi ricordo era quella più vicina l'area dei colli quindi quella più naturale seguita la rebosa saragozza che pur essendo situata in acinto urbano aveva i colli alle spalle e per ultime battiranne l'ortobotanico l'ortobotanico era prevedibile in virtù del fatto che era in piena acinto urbana mentre battiranne pur essendo situata in una fascia periurbana ha avuto risultati così scadenti diciamo a causa della scarsa della forte non tensione in realtà che veniva data in tutte le aree come ad esempio sparti traffico o rotonde o le aree tra le varie diverse rortive i risultati più allargati diciamo sono state osservate 121 specie nidificanti del terreno 32 specie parassite e 28 specie rigolettiche in totale sono state campionate 170 specie vegetali e sono state rinvenute in totale 194 specie di api serbatiche pari a quasi un quinto del totale delle specie presenti sul territorio nazionale ok in parallelo a questo studio abbiamo pensato di far vedere un secondo caso studio che in un qualche modo è collegato al precedente in questo caso sono state censite tre aree erano io qui vi ho scritto del WWF di Bologna in realtà sono gestite quindi non sono delle oasi vere e proprie ma sono semplicemente delle aree comunali gestite dal WWF questo significa che presentano una gestione più sostenibile più gentile in qualche modo una gestione che insegue quella che sarebbe la naturalità di questi luoghi per farvi capire perché vi stiamo parlando di anche queste tre aree perché se vedete rispetto a quella che è l'area più centrale di Bologna quella che noi diciamo dentro le mura quindi il vero centro storico se le aree di cui ha parlato Simone sono quelle con le stelline rosse le aree di cui vi sto parlando io adesso sono queste tre aree con la stellina gialla quindi effettivamente sono fuori dal centro storico ma se allarghiamo l'idea di urbanizzazione allora anche queste tre aree sono effettivamente nel pieno contesto urbano in questo caso lo studio è antecedente a quello di Simone quindi parliamo del 2014 e il protocollo di campionamento è leggermente diverso quindi in questo caso si andava in campo una volta al mese e si facevano quattro turni di osservazione al giorno compresi fra le nove e le cinque del pomeriggio e il transetto era fisso quindi praticamente si sceglieva sempre lo stesso percorso e quello che si andava a valutare era da una parte l'evoluzione delle fioriture e in contemporanea quindi l'evoluzione e la successione delle specie di apoidei che si sono andate a presentare in questo caso è stato uno studio di un solo anno quindi effettivamente i numeri i risultati che qui vi riporto sono molto più bassi rispetto a quelli che vi ha presentato Simone ma è come se praticamente in due anni di osservazione arrivi più nello specifico quindi da una parte ci si poteva aspettare di più da aree gestite dal WWF quindi di solito anche solo il concetto di WWF può venire in mente la parola biodiversità però comunque dal punto di vista sia delle specie botaniche voltinate dagli apoidei sia dalla diversità degli apoidei stessi effettivamente si può considerare un buon livello di biodiversità praticamente quello che ci stavamo chiedendo in origine e quindi il motivo per cui abbiamo presentato questi due casi studio gemellati è perché volevamo capire se in una zona come queste che vi scusate tornando un attimo alle foto come vedete sono pienamente possiamo considerarle effettivamente naturali come aree se presentavano più o meno diversità da quelli che invece erano contesti orticoli quindi dove effettivamente l'uomo va continuamente a maneggiare le fioriture a decidere quali sono le fioriture in buona parte almeno presenti negli orti quello che si può concludere da questi due risultati nonostante comunque le differenze che vi abbiamo mostrato sul protocollo di campionamento è che in buona parte sono simili le specie la biodiversità dal punto di vista delle api trovate nelle diverse aree quindi questo vuol dire che gli orti urbani possono rappresentare effettivamente è un luogo idoneo alla presenza degli apoidei e quindi rappresentano un punto focale importante per mantenere la biodiversità di questi animali anche in un contesto urbano e di conseguenza anche aree gestite come le osi del WF quindi senza togliere l'importanza anche di queste altre aree grazie a tutti